La parola di oggi è maestro. Maestro, sì, perché il Signore dice che non vi fate chiamare il rabbi perché uno solo è il vostro maestro. Sono questi che legano. E' Gesù il maestro. No, perché nel Vangelo di Matteo particolarmente, se fai un controllo, il titolo di maestro non viene mai riferito da Gesù a se stesso. Perché per lui l'unico maestro è il padre. Infatti qui è caratteristico, c'è stato un po' un cambiamento nella traduzione della CEI che eccezionalmente è un miglioramento, cosa rara, curiosa, che i cambiamenti della nuova CEI siano dei miglioramenti. Però questo è un miglioramento perché dice non fatevi chiamare guide perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Avremmo negli orecchi l'idea che Gesù dice sono solo il vostro maestro, il Cristo. Invece no. In questo testo, ma come in generale, il titolo di maestro, cioè di Daskalos, è riferito dagli altri a Gesù. Cioè un titolo che gli altri danno a Gesù. Ma Gesù non lo riferisce a se stesso, ma al padre. E invece per se stesso usa questo titolo strano che è kategetes, cioè guida, colui che conduce. Allora è chiaro che qui Gesù ha intenzione di dire una cosa ben precisa. Colui che insegna, che si siede sulla catedra di Mosè, che insegna la legge, che spiega la legge, eccetera, eccetera, o lo fa per introdurre a qualcosa di diverso, a qualcosa di più grande, o lo fa come intermediario di qualcosa di più grande, oppure può ricondurre a se stesso. Ma se riconduce a se stesso, evidentemente la conseguenza logica è l'ipocrisia, l'ipocrisia religiosa, il formalismo religioso, eccetera, eccetera. Quindi Gesù invece afferma che anche il suo ruolo di maestro, è vero che lui non si dà questo titolo, però gli altri glielo danno, e lui lo accetta da un certo punto di vista, ma anche il suo ruolo di maestro è un ruolo di maestro che però consiste nel portare qualcosa, nel riferire qualcosa a qualcuno di più grande. Il rischio però di diventare maestri nel senso negativo del termine c'è sempre. Il rischio di diventare maestri nel senso negativo del termine c'è sempre, però molto spesso questo testo viene utilizzato per contestare, che so io, i titoli ecclesiastici. Allora, va bene, si può anche contestare i titoli ecclesiastici, oppure i titoli... Cioè non si può chiamare più il Papa, Santo Padre. Oppure i titoli accademici, no? Professore, eccetera, eccetera. Però bisogna stare attenti su questo, perché se no si finisce a vuotare il messaggio di Gesù rivestendolo di un formalismo che non ha senso, tanto per fare un esempio. Certamente c'è stato chi nel secolo passato ha propugnato la necessità di fare una società uguale, per cui si chiamavano tutti i compagni, no? Avevano eliminato i titoli enebriliari, quelli ecclesiastici, quelli... Di qualsiasi tipo. Di qualsiasi tipo, però non è detto che quella società sia assolutamente la più raccomandabile. Sì, no, e poi comunque c'erano sempre dei compagni un po' più compagni degli altri. Quindi non è il problema dei titoli, eh? Non è il problema dei titoli, anche perché Gesù riceve questo titolo e se lo fa dare tranquillamente. Il problema è della concezione che uno ha di se stesso. Allora, uno o può rimandare a sé, oppure può riconoscere che ciò che ha gli viene dal Padre, quindi indicare nel Padre l'origine di quello che uno è. Gesù è per eccellenza colui che indica il Padre, colui che mostra il Padre, anzi che consiste soltanto nel fatto di mostrare il Padre.